Oggi vi porterò al divacco Schuringer e anche qua andiamo a vedere gli stambecchi siamo sul sentiero attrezzato leva un bellissimo sentiero che attraversa il montaggio e collega il bivaco con il bivaco Schuringer Siamo sotto alla torre Lady Stacy e qui comincia la grande accenza Grazie Grazie Eccoci arrivati al bivaco Schuringer e ha cominciato a piovere Ecco cosa vuol dire un bivaco Buongiorno 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 Buongiorno